Buongiorno a tutti, oggi siamo all'Istituto Donati a Fossombrone e oggi intervisteremo la rappresentante dell'Istituto. Perché ti sei voluta candidare per fare la rappresentante? Allora, perché mi è sempre stata a cuore la scuola e anche perché vedevo che comunque c'era bisogno di miglioramenti e di cambiamenti all'interno dell'Istituto. Sono due anni che sono rappresentante e il primo anno è andato meglio, il secondo abbiamo fatto meno cambiamenti, abbiamo portato più avanti la nostra idea che era quella di stare dietro la scuola. Qual è l'obiettivo che volevi ottenere in questo percorso? Miglioramento e innovazione. E l'obiettivo che volevi ottenere è stato, l'hai raggiunto? In parte sì, perché comunque la cosa che abbiamo fatto tutti e quattro, specialmente i tre che siamo dall'anno scorso, era quella di fare le assemblee d'Istituto con tutta la scuola, cosa che fino a poco tempo fa non avveniva. E quindi direi di sì, l'innovazione sicuramente, il miglioramento piano piano ce la faremo. E il prossimo anno ti vorresti ricandidare? A malincuore no, perché sono in quinta e quindi preferisco di no, sinceramente. Perché ti sei candidato per fare il rappresentante? Mi sono candidato perché venivo da un'altra scuola, da un istituto tecnico di Urbino, una scuola più grande, con più ragazzi, dove avevo portato già innovazione, dove ho visto tante cose nuove che in questa scuola non c'erano. E quindi ho cercato di portare la mia esperienza. Bene, qual era l'obiettivo che ti hai riposto all'inizio dell'anno? Innanzitutto di far venire i ragazzi, i miei compagni, a scuola più sereni, felici, quindi facendo attività anche diverse, facendo le assemblee d'Istituto tutti insieme, cosa che non si faceva. E di far venire a scuola, diciamo, non divertendosi perché comunque bisogna studiare, però con serenità. A tutti i ragazzi. Bene, e l'obiettivo l'hai raggiunto? Ma spero di sì, spero di sì. Tra gli obiettivi che ti hai riposto? C'è qualcosa che non sei riuscito a raggiungere e perché? Sì, non siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi, secondo me, perché comunque la scuola è composta da tanti ragazzi, non tutti i ragazzi sono contenti di quello che fai, come in tutte le cose nella vita, quindi noi abbiamo soddisfatto tutti. Personalmente sono stato molto contento del mio lavoro, invece. Personalmente rimango molto soddisfatto. Bene, e il prossimo anno ti vorresti ricandidare? Ancora non lo so, quest'anno non mi volevo candidare, già da quest'anno, quindi ancora non so, dipende anche chi saranno gli altri candidati. Va bene, grazie a tutti e dall'Istituto Donati è tutto. Grazie.